ecco mamma mia mia figlia sono i pesciolini guarda eccoli ma sono tantissimi adesso andiamo da un altro posto volete vedere dopo dopo si certo che vogliono vedere vedono anche la sabbia ciao buongiorno ci spieghiamo ovviamente ma cosa stai facendo guarda che di la c'è Christian c'è la Vanessa che stanno mangiando ehi Polina ciao ti stai nascondendo eccoti buongiorno e ciao a tutti ti ricordi che Ermi dicevi mami cominciamo il video come tu mi svegli e mi dici da Erika svegliati ti ricordi ecco fatto dove si va oggi? a mare vi aggiorniamo fra poco svegliati adesso mangiato si ragazzi vi vogliamo mostrare una cosa se vedete poverina si è fatta tanto male e adesso con i sandali ti da fastidio ecco i cerutini guarda Erika che cerutini abbiamo preso sono quelli colorati sono quelli colorati devi scegliere tu uno va bene va bene qua c'è un pagliaccio e dopo ci sono questi grandi ma a te ti serve uno piccolino Erika guardate ti serve uno piccolo anche quelli ma sono troppo grandi questo ti metti questa e che ha la faccia come ha la faccia? ehm me la fai vedere? per comitare così fatto? si brava ecco il tuo pidino è pronto ti metti i sandali e partiamo ragazzi siamo in macchina il nostro viaggio è cominciato dobbiamo andare in porto a prendere la barca perché oggi vi portiamo con noi a vedere le spiagge più belle della Sardegna non vediamolo ora siamo contentissime siete contenti anche voi? si ora avete i tatuaggi avete i tatuaggi? si guardate vediamo io ho i tatuaggi della serenetta che si illumina il buio si è postorescente e la Vanessa ha un altro tatuaggio si che non si illumina con l'unicorno ma non si illumina si vi faremo vedere dopo al buio questi tatuaggi belli giusto? si ecco saliamo su vediamo cosa c'è qua? eh wow ma che bello guardate ragazzi che meraviglia ecco siamo qua su eh sì tanto su wow ma c'è tanto sole qua meglio se restiamo giù al coperto perché veramente sarà un giorno sole sì 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 ecco ciao 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 saluti la Moldova tutto bene saluti dalla Moldavia eh sì loro sono genitori di Cristian di Cristian ma siete così belli tutte e due con occhiali guardate anche la Vanessa wow wow sei così fashion Vanessa vi faccio una foto? sì ok adesso si fa il primo sbarco in totale quattro ci sono? due o tre non mi ricordo ecco ecco il nostro team è qua tutti c'è anche Gabriel qua che sta guardando sta guardando qua sta guardando qua sta guardando qua ciao 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 si mangia la merendina adesso si si ti fai male qua ma che mio posticino avete trovato qua eh sì è tutto per noi siamo qui tranquille non lo so se si sente qualcosa perché non lo so se si sente qualcosa perché c'è tanto vento qua ma cosa stai facendo? è che dobbiamo fare così? chi è che fa l'uomo? il gatto o la gallina? o la gallina? o la gallina? ragazzi non dimenticare a mettere tanti like sotto questo video e iscrivetevi al nostro canale e via non si sente iscrivetevi al nostro canale e mettete tanti like mettete tanti like vai e già siamo arrivati alla prima viaggia che si chiama Cala Maguolo ecco ragazzi qua è la prima viaggia e la scopriamo insieme Manisa ti piace? piano ecco mamma mia mia figlia andate 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 fate pensione ecco ecco qua siamo arrivati si va avanti si va avanti è una piscina è una piscina questa? si e si con l'acqua così pulita andiamo avanti wow l'acqua c'è l'acqua ragazzi è stupenda è stupenda è stupenda ma non c'è la sabbia la sabbia si ci sono i sassolini piccolini hai visto? andiamo avanti vieni signorina ti devo mettere la prima ok? si guarda la vediamo qua lo rollo perché guarda c'è tanto sole lo sai si e ti può bruciare ecco fatto adesso le mani ecco ecco anche qua vediamo aspetta che non ho forza fatto il tatuaggio no? oh oh non il tatuaggio e anche qua c'è un tatuaggio e girati ho visto un'ape qua intorno a te dobbiamo fare attenzione non ha paura vedrai che non ci fa niente ok? ti devi muorti ok? mettiamo anche qua la sabbia ok fatto e mescoliamo vado a mettergli la crema anche a Vanessa fatto ti devi prendere però i braccioli se vuoi andare in acqua ma volete vedere? vediamola Vanessa dai che ti devo mettere la crema anche a te cosa stai facendo? hai finito di mangiare? sì o ancora no ma ancora ancora? sì cosa faresti? la pizza dopo ti do ancora un pizzettino ho messo la pizza nello zaino perchè ci sono tante api qua dai ecco così le mani le mani da per tutto aspetta anche questo mano e anche qua testa su così e adesso le mani lo faccio io faccio io faccio io va bene la fai tu si entra in acqua wow che bello com'è l'acqua Vanessa? fredda è fredda hai visto? è pulitissima ma l'acqua è di giù tutto bene? vai tu in là Vanessa Erika se vuoi puoi andare da papino eccolo è la è la così non puoi nuotare andate dai vai da papino da sola nuota 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 fino da papà brava 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 ecco ecco è ricordata hai messo la Vanessa e la poverina che vieni vieni da me Vanessa vieni dalla mamma vieni vieni qua siediti ecco chiudi occhi guardate la sua faccia dice tanto e dice tutto è felicitissimo guarda mettiamo un po' di sesso guarda 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 lì si sta coprendo da sola mamma guarda 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 da dove è la Vanessa da dove è la Vanessa portiamo un po' d'acqua perchè poverina ha tanto calcio abbiamo questa pianta adesso sei cresciuta grande grande esci fuori brava ecco mamma mia ma sei tutta piena di sassolini dappertutto sono i pesciolini guarda guardami ecco lì ma sono tantissimi wow sono tantissimi i pesciolini hai visto hai visto Erika stanno mangiando veramente ma sono abbastanza grandini questi pesci ma sono così piccoli mi hai dato il pane tutto? si lo sai che fra poco dobbiamo partire di nuovo in barca? si e dobbiamo andare da un'altra spiaggia bella bellissima Erika Vanessa si adesso si va in barca dobbiamo dire ciao a questa bellissima spiaggia e alla prossima bellissima Erika ti è piaciuto? si tanto anche a me e guardate l'acqua che è azzura è azzura quell'acqua si adesso andiamo da un altro posto si lo volete vedere dopo dopo si certo che vogliono vedere e guardano anche la sabbia piano ragazze piano piano ciao bambine ciao 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 meraviglia non vogliamo andare a casa non vogliamo andare a casa è bellissima ciao 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 Lara è un falco femmina di soli quattro anni cade dal nido lassù e allaspava in queste acque così a Matteo gli dissi tuffati Matteo è il mio secondo al comando e si gettò salvò Lara e su quattro mesi per quattro mesi sul ponte di queste acque come lo vogliamo chiamare un falco? un serpente? no ci stanno chiamando ci siamo siete pronti? Lara sei pronta lassù? ha detto ella l'avete sentita Lara guardate le bambine guardate le bambine eccola ecco Lara lei Lara grande l'era in volo sta attraversando la foresta vai Lara grandissima sta puntando verso il largo ecco lì Lara sull'inizonte l'era piano piano è troppo veloce Lara sta gocciolando sta gocciolando ragazze mi sembra e no sta gocciolando e noi siamo mezzo al mare e cominciamo a gocciolare dai speriamo che non arriva la pioggia perchè è stata fatta fai cura l'acqua diventa proprio c'è non è tranquilla ah 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 cominciamo a gocciolare la macchina sono delle goccioline piccole ecco ragazzi si speriamo che non arrivi nessuna tempesta Vanessa Erika si hai anche tu paura si anche io ecco cosa mi stanno facendo la Vanessa guarda cosa mi sta facendo la Vanessa c'è tanto vento aspetta Vanessa aspetta un po' mi metto gli occhiali aspetta ecco così più forte ecco Erika Erika sai che adesso siamo a coca la luna e entreremo dentro una grotta eh si adesso entreremo si entreremo lì ecco entreremo lì sarà freddo sarà freddo e non saprei vediamo ecco Erika girati e preparati perché si entra dentro adesso ma la barca è grande ma la barca la barca è grande è grande ma entreranno dentro cioè entreranno dentro per davvero ecco è buio è buio è buio è buio però si entra dentro ecco 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 Siamo dentro questa cravatta che meraviglia ecco l'acqua ragazze dovete guardare l'acqua qua questa è quella luna là dentro ci sono le croce e non lo so se ci fermiamo arriviamo a Cala Sisini adesso è la nostra prossima destinazione siamo arrivati andiamo a prendere le nostre cose andiamo giù avanti avanti quello mi piace quello mi piace quello mi piace non ti piace qui? no perché sono i sassi grandi andiamo venite andiamo a cercare dove sono i nostri amici ecco li abbiamo visti andiamo erica andiamo ti prendo in braccio va bene vieni qua dalla mamma vieni vieni ecco papino come ti senti? e io faccio qui ecco è tutto bianco papà è tutto bianco ma fate attenzione ti piace Vanessa il profumo? no no basta ti piace ecco basta ragazzi andiamo là dentro nella grotta andiamo fate attenzione pianino perché Gabriele sta dormendo va bene? va bene andiamo ciao e tu riposa in pace riposa in pace no 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 non è in quel senso intendo che ti riposi stai dormendo si si in pace senza bambini si senza bambini giusto andiamo mi riposano visto che massaggio mi hanno fatto ah si guarda ti vuoi uditi questo momento ciao a dopo guarda che faccia rilassata eh si 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 andiamo Vanessa è molto grande è molto grande cosa ne dici? troveremo un orso dentro? si no sto scherzando qua non c'è nessun orso è molto grande vuoi andare su vuoi andare su? si ma però però devi fare attenzione sai guarda lì è la grotta è lì è la grotta si guardate ragazzi dove stanno andando queste due bambini piccoli Vanessa mi diceva prima che di la possono andare i bambini piccoli invece non è vero guardate dove siamo dentro una grotta stiamo preparando un video bellissimo ragazzi non dimenticate di mettere un like sotto a questo video ecco state attente va bene? oh Erika attenta attenta per favore fai attenzione e guarda anche la Vanessa è dietro di te va bene ok dai che vi guardo con tanta ansia e facciamo una pochette eh perché ho paura potete cadere giù una volta e basta va bene ecco state attenti dai venite qua una volta e basta no avevi detto che questa è l'ultima volta già hai fatto due girettini no io ti ho detto questi sono bambini eh no guarda che era un po' e cadevi giù vieni 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 qua ecco e dove vai indietro? no 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 ragazzi mamma mia siete come due scimette piccoline no eh sì vero fate attenzione mi raccomando attenzione la piano va bene? va bene e venite qua giù ecco dovranno arrivare fin qua e loro sono lassù io ne ho voleto che si stanno giocando io la voglio bebe mamma mia sei un lupo sei un lupo no tu io sono un lupo ehm non è un gioco così divertente bebe 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 tu sei un lupo dai Allora io vado, dai che la barca va via Andiamo ragazzi Ciao 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 Rimanete qua Rimanete qua E allora sbrigatevi Dovete sbrigare piano Atenti Ecco Vanessa vieni giù per favore Non vogliamo Non volete Però dovete venire Ecco Arriva la nostra barca Adesso si va a casa Andiamo andando A casa Verso casa Ciao 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 Ci ritorneremo Di sicuro ci ritorneremo Con questa acqua Azzura Ci ritorneremo